Buonasera da Smart Television, stasera ci troviamo nella famosa discoteca del PG a Sovigliana. Famosa discoteca perché stasera c'è una grande festa per il 1993, quindi 20 anni fa, con il famoso DJ Riccardo Cioni e altri ospiti. Andiamo a vedere il servizio. Grazie per la visione! Passano gli anni e la musica più bella rimane sempre la più bella. Questo perché la musica degli anni passati è una musica fatta da musicisti che sono anche compositori e arrangiatori. È una musica studiata, al tavolino, composta e fatta da delle persone che rispettano la musica e non solo ritmica. Mentre adesso la musica è cambiata, anche se a dire la verità vorrei fare sottolineare una cosa, che anche la musica nuova che c'è ora, c'è un ritorno a un arrangiamento più curato, a parte suoni che sono moderni, digitali, quello va bene, però c'è una ricerca. Questo vuol dire che effettivamente hanno capito che la musica deve dare sensazione. Se non dà emozione e sensazione è inutile farla. Dopo vent'anni si ritrova qui nella discoteca famosa di Sovigliana, PG 93. Che effetto ci fa dopo vent'anni? Una bella serata, un bello effetto. Bello, mi è piaciuto parecchio. Allora non aspetta altro che fare due balli? Sì, ti aspetta che cominci Riccardo Icioni per ballare. Un bel gruppo al PG 93 dopo vent'anni. Number one. Number one. Fashion, fashion, fashion. Fashion, fashion. Come vi sentite? Alla grande, alla grande. Con Cioni sempre. Riccardo Cioni stasera nuovamente qui dopo tanti anni. Rinnova ancora la sua musica bella. Bellissima. Riccardo Cioni è il meglio. Grazie. Tra poco si apriranno le danze con Riccardo Cioni. Come si sente? Un po' emozionata. Un po' emozionata, sì. Pronta per i nuovi balli o per quelli di vent'anni fa? Quelli di vent'anni fa. Stavamo l'uso apposta per quello. Le vecchie musiche degli anni 80, 90. Sono le più belle. E rimarranno le più belle. Grazie. 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 Andiamo a vedere in pista come se la stanno svolgendo I nostri ballerini dopo 20 anni Buonasera, buonasera L'adrenalina sta iniziando a salire qui al PG Grazie a Riccardo Cioni Vedo che si inizia a ballare Come ci sentiamo? Ci ricordiamo gli anni nostri È bellissima Ancora ci stanno a scaldare Avanti tutta con l'adrenalina alta Grazie Buonasera Avete iniziato a ballare adesso La serata sarà lunga Eh, va bene Sino a che si dura si rimane Vediamo cosa ce la facciamo Come quando avevamo 18 anni Può tardi Come Riccardo Cioni va avanti da 20 anni Voi andrete avanti a ballare ancora Certo, sicuramente L'adrenalina inizia a salire Siamo iniziati con le danze Voi ballerete per tutta la sera? Certamente Siamo qui apposta In segno dei vecchi ricordi Che questo locale ci ricorda Grazie 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 Ci troviamo all'esterno della discoteca del PG E dentro abbiamo lasciato tutte le persone a ballare Dopo 20 anni Con tantissime persone Una serata ben riuscita Smart Television vi saluta Grazie